Flavio Beriatore ci mostra il suo resort e poi riprende il figlio Nathan mentre gioca a pallone. E' un po' Michael Jackson, fai il passo, il passo devi fare vai, ma non questo non è Michael Jackson, amore. Bellissima Elisabetta che si gode questa vacanza con il figlio, infatti la vediamo ballare e siete strepitosi.